Si sono riuniti per discutere e trovare risoluzioni adattaviche problematiche legate alla disabilità. Sono i rappresentanti dell'Associazione Progetto H che hanno incontrato il neassessore comunale Licia Abela, il dirigente Maria Morinello e il rappresentante dell'Unione Cechi Italiana Linda Legname. Il consulente legale dell'Associazione Progetto H, l'avvocato Paolo Capici. Abbiamo forse finalmente definito la questione del trasporto dei vouchers che è stata un pochettino complicata questa strada però alla fine pare che ci siamo riusciti. È una cosa provvisoria perché il Comune deve organizzare un bando come succedeva negli anni precedenti e quindi queste sono scelte che fa il Comune. L'importante è che i disabili abbiano il servizio di qualità buono. Abbiamo affrontato per l'ennesima volta il problema dell'assessorato ai servizi sociali perché siamo stati ospitati nella sede del segretario sociale che non è per niente adatta né dignitosa per quanto riguarda l'accesso dei disabili in carrozzina. Io chiedo al sindaco e all'assessore competente che trovino immediatamente la soluzione che ha portato a di mano cioè spostare l'assessorato più avanti di 100 metri dove c'è il territorio d'ambiente a pieno terra se entro 10 giorni non farà il nostro spostamento penso che faremo una pretesta un po' più accentuata. Inoltre abbiamo programmato con l'assessore il programma per gli accudenti perché è scaduto e quindi si deve rinnovare e il comune deve trovare i fondi perché l'assistenza venga fatta 4 ore su 4 e non 1 ora su 4 per evitare che vengano chiamate le mamme ad accudere i bambini. In ultimo abbiamo programmato a medio termine la revisione dei servizi che riguardano i soggetti non autosufficienti per l'apertura di centri per gravi e di centri di orne.